Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! No ma adesso arriverà a 100% un team qua nel buscia per forza mhm Concagno No, ci sa, ci sta! Sì pietragamo tra sedici e venti abbiamo preso, dai Speriamo di aver preso 20 Tremano 4 kill io quindi abbiamo fatto ciao Giacomo ciao non sono come state? ma secondo te ne vanno mangiati 10 o 8 di cavoli quando la safe toglie 8 per riprendere la rigenerazione ciao e pesto come va? è qua eh? è qua eh? bisogna mangiare 8 cazzi 8 cabbi bisogna mangiare guarda quello cazzo mi bado a cercare un po' di gente giù si si ok easy no non c'è l'oxx ce l'ho io pesca araccia banana uva qua si è completamente liberi hanno riftato per me vuol dire eh ma hanno riftato quelli a sinistra e non hai visto quelli che ci hanno sparato si ma non so cosa lei intende allora per siete completamente liberi perché a sinistra è completamente... questi qua hanno fatto una discesa incredibile non aveva molto senso questa cosa ma bravi ok abbiamo... eh dirò la safe... ok 6 punti per la merda qua bisogna fare qualcosa bisogna parlare con chi cazzo ha accostato la cosa eh eh nomi aspetta un attimo dobbiamo andare a vedere il replay perchè è obbligo si andate a vedere subito il replay per forza guardate il primo game di questo qua guardate gli stessi confermiamoci controlla è che il primo mi ricordo che ci sono, ci sono solo questo e vediamo ok vai arre abbiamo la clip moderazio... arre potete salutare Gennaro De Martino ciao Gennaro De Martino ed è un fruit shoot si rimane in otto andiamo è un fruit shoot ragazzi e si rimane in otto finale e poi best ma che cosa che cosa ahhh arrivo dirkant money 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 yo jala 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 jim jim blin blin so che jala e ne fa chi so jala blin blin che stavete di quel dio se sto lavorando non accendete quel cazzo di pardo domenico domenico eccomi andiamo così per adesso per me la guarderò con calma per un po' di anni alvei le mani che brudevano aio grazie alvei grazie per aver no sei un figlio di puttana spero che tua madre questa sera dio caro porco spero che tua madre porco diaz questa sera gliene infilano 4 nel culo sto figlio di puttana fallito di merda pezzo di merda che dio caro che ti viene un cagotto adesso che porco diaz ti alzi dal cesso domani mattina figlio di puttana pezzo di merda rotto in culo bambino del cazzo bastardo bastardo a me merda guardami guardami qua negli occhi lo sai nel profondo che sei una persona fallita sì perché davanti non si scappa più poi caro puoi continuare non c'è problema vai avanti io il mio sciolo faccio ugualmente tu stai perdendo tempo amico e se domani ti svegli freddo cosa succede dimmi cosa succede se domani ti svegli freddo ti rendi conto che hai perso tutto il tuo tempo per venire qua a infastidirmi e non lo hai investito per fare qualcosa per te o sbaglio c'è una partita o non darti le agio che io c'ho il fortnite mio player preferito ah non mi prendere i capelli non lo devi fare ventilatore bastardo che ogni tanto mi prende i capelli ogni tanto sento i capelli che vanno dentro figa non lo fare statene lì ma porca troia andiamo 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 uno si ma tu l'altro no ho ammazzato l'altro pure minchia l'ho bucati figa e io ho fatto 200 0 1 e 100 all'altro quante kill? 4 perché non ho abbiamo preso quattro kill sono quattro punti si aspetta io devo fare spettatore aprire la mappa comunque sincero è abbastanza strano starà bene ho terminato uno bravo io ho terminato uno bravi ragazzi bravi ragazzi peccato che non hai preso la kill ma quanti kill abbiamo? arre clip adesso arre per favore quindi sono 19 punti non male aspetta 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 clip adesso arre vai mi potete succhiare il cazzo in due falliti mi dovete succhiare il cazzo adesso vengo a vedere se siete italiani e vi riporto tutti e due succhiatemi il cazzo proprio tanto tanto mi dovete succhiare mi dovete succhiare il grande cazzo falliti di merda mi dovete succhiare il grande cazzo con le vostre madre puttane succhia cazzo mi dovete succhiare il grande cazzo ficalo in culo falliti di merda adesso vedo i nomi di tutti e due pezzi di merda oh cazzo non ti ho visto eh lo so che non mi hai visto ma io non potevo fare l'ottimente lo so speravo che non venisse che scena brutta ma lei è un fottuto pezzo la concertazione è che si viene sbagliato a metà la colpa a me tua madre su che buchi di culo di tua patria e quella stronzo bastardo rotto in culo merda che dio caro ti ha messo al mondo perché gli sei bucato il profilattico e ha comprato porco diaz da quella merda di tuo nonno che sei scopato pure tua madre bastardo ah non sono da nonno che scopo le madri quella merda che ti ha messo al mondo dio caro ti doveva sputare porco diaz quando ah dio caro vediamoci sempre ciao chiodo grazie dei 5 chiodo 1999 5 mesi ciao bello al mese non allora scusa 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 andiamo vai 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 fatevi i cazzi vostri i conti in tasca fateveli a casa vostra punto che babbi il pazzo porco il cazzo alleluia chi babbara 1295 buongiorno xuderone come va ah non so cosa cazzo di cazzo del cazzo fosse ma santo il dio non era una brutta play cosa facevo rimanevo nel bush con cento di vita no devo provare a curarmi potevo anche andare sul ponte è una play pericolosa ci sta ci sta ci sta il nuovo verley shadow quello da 5000 eh sono scadute delle sabbe quindi dobbiamo aspettare eh adesso un po' che non sto facendo il colore infatti è tutto sciapito sciapito buongiorno F come stai? eh arriva un cazzo perché sopra non è gratinata eh questo potrebbe essere un grande connesso certo sopra è così io te la mangi così io so cazzo perché se io metto questo a gratinna dici che gratinna sopra qua facciamo la lasagna le 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 le